Per riferire la Corte quale attività professionale svolge e in che periodo si ha lavorato a Palermo? Io faccio il giornalista, ho lavorato a Palermo dal maggio del 1979 al 2004. Occupandosi di quale tipo di cronaca? Cronaca giudiziaria? No, nei primi anni ho seguito quello che avveniva in città, la cosiddetta guerra di mafia, i detti eccellenti, poi ho seguito tutta la fase della formazione del puro antimafia, ho seguito il maxiprocesso in quest'aula, poi ho seguito quello che è avvenuto dopo, poi ho seguito le stragi fino al 2004. Nell'ambito di questa attività, della sua attività, ha avuto modo di intervistare Aiello Giovanni? Sì, certo. Se vuole riferire dove e quando se lo ricorda? Sì, ma lo ricordo, è stato una decina di anni fa, sono andato insieme a un collega di Repubblica, al tempo lavoravo a Repubblica, Salvo Palazzolo. C'era un terzo collega, che era il corrispondente di Repubblica, da Reggio Calabria, però scrive per un giornale locale che mi pare si chiamasse Il quotidiano della Calabria. Siamo andati a intervistarlo in provincia di Catanzaro, in un paesino dove abitava, che mi pare che si chiamasse Montauro. Qual era il motivo dell'intervista? Quali voci circolavano sul conto di Aiello, per quanto in quel momento giustificava l'opportunità di un'intervista? Chiedo scusa al Pubblico Ministero, mi è sfuggito, ha detto il periodo? Una decina di anni fa. Sì, questo l'avevo sentito, è in questi termini che riesce a collocarlo, non riesce ad essere più... No, dico per carità, se non è una richiesta di... 2012-2013, immagino. Va bene, allora, stava dicendo Pubblico Ministero? Questa intervista nasceva da quale informazione precedente riguardante Aiello? Qual era il motivo per cui siete andati a intervistarlo? Siete andati a intervistarlo perché nei mesi, ma probabilmente anche negli anni precedenti, abbiamo sentito parlare non tanto di Aiello, ma di come lo chiamavano, faccia da mostro, e il personaggio era giornalisticamente estremamente interessante, non solo giornalisticamente perché c'è chi diceva che era coinvolto nell'attentato alla Dauro, chi ci diceva che era coinvolto in altre stragi, avevamo, se non ricordo male, letto qualcosa di Luigi Lardo, qualcosa di un collaboratore di giustizia che si amava Loforte, mi pare Vito, e poi avevamo informazioni su certe sue attività, si parlava di attentati su treni o caserme nel nord Italia, sul suo presunto coinvolgimento in alcuni delitti di Palermo, tra cui quello di Nino Agostino del Poliziotto, quindi era un personaggio estremamente interessante, dottore. Ma era un'intervista concordata, vi era fatta sentire priva con l'Aiello, avevate preso l'appuntamento o siete arrivati là e l'avete intervistato? Dunque siamo arrivati là, ma non per caso, nel senso che abbiamo preparato, se non ricordo male, l'incontro, nel senso che io ho parlato con dei colleghi che mi hanno presentato altre persone, che mi hanno presentato uno del Paese, che mi ha assicurato che in quei giorni era là e quindi ci siamo andati, non dico colpo sicuro, ma non ci siamo andati in un giorno qualsiasi… abbiamo preparato questa trasferta in Calabria sperando che ci fosse, quindi abbiamo controllato in qualche modo i suoi movimenti per non fare un viaggio vuoto, dottore. Comunque lui si è reso disponibile a rendere questa intervista, ecco. Sì, io l'abbiamo fatta in due, nel senso che Palazzolo era molto interessato a una macchina, un Range Rover, aveva una macchina fotografica, mentre io sono andato incontro a questo signore e mi sono presentato, tra l'altro mi è sfuggita genuamente anche una frase, dice ma io a lei la conosco. Ecco, su questo adesso dobbiamo tornare, sì. Gli ho detto che ero, ero un giornista di Repubblica, al tempo lavoravo a Repubblica e ho parlato lungamente con lui, sì. Senta, può descriverne, per quanto ricorda e può farlo in questa sede, viso e corporatura? Beh, era molto, io sono basso, lui era molto alto, sarà stato 1,85 almeno. Sapevo che aveva una cicatrice, ma la cicatrice su quel viso, non era ben visibile, nel senso che su un viso liscio, tranquillo, sarebbe stata visibile, ma aveva un viso particolarmente deformato, quindi la cicatrice si notava solo, osservandolo molto da vicino, era la forma del viso curiosa. Che era particolare, diciamo. Sì, era molto particolare, poi era un uomo estremamente robusto, molto alto, aveva le grosse mani. Senta, era già accennato al fatto che vedendolo lei ha ricordato di averlo già visto in precedenza. Sì. Ecco, vuole precisare, per quanto poi ha ricordato, se ha ricordato subito, dove e quando l'aveva visto in precedenza. Guardi, al tempo, io subito dopo l'intervista ho fatto mente locale, penso di averlo visto, nella piazza dove c'è la questura di Palermo, l'ho localizzato su quel bastione che dalla questura arriva alla squadra mobile. naturalmente non le so dire quando l'ho visto, ma io me lo sono immaginato là. Cioè, il suo ricordo l'ha associato a quel luogo inizialmente. Sì, sì. Lei si ricava spesso presso, diciamo, quel luogo, presso la questura di Palermo per il suo lavoro, ci andava di frequente. Sì, ci andavo in quegli anni, all'inizio degli anni Ottanta, ci andavo praticamente ogni mattina, praticamente ogni mattina, o almeno quattro, cinque volte alla settimana. Senta, rimaniamo all'intervista. Nel corso dell'intervista, per quanto ricorda, quali argomenti furono trattati? Dunque, la prima cosa che mi disse riguardava proprio la cicatrice e mi parlò di uno scontro a fuoco, stavo dicendo presunto, in Sardegna con la banda di Graziano Messina. Però io avevo letto qualcosa, ecco perché mi stava sfuggendo la parola presunta, che non erano andate così le cose, però non ho mai approfondito. Poi mi ha raccontato a lungo di come è stato arruolato e ho avuto molta pazienza, ma da qualche parte doveva arrivare questa chiacchierata, perché mi ha raccontato che aveva presentato domanda per entrare in polizia, che non aveva ricevuto inizialmente risposta, era stato addirittura preso in giro dal padre, dice non sei buono nemmeno per fare il poliziotto, mi disse, e invece poi gli arrivò la convocazione per andare a fare un corso, non mi ricordo adesso dove, e mi disse una cosa un po' curiosa, perché disse mi hanno assegnato ad un reparto che avrebbe dovuto partecipare al piano solo. La cosa mi sorprese molto, perché il piano solo era il tentato golpe, si chiamava solo perché era solo dei carabinieri, lui era un poliziotto, quindi i conti da una parte non mi tornavano e dall'altra non capivo perché me l'aveva detto. Lei chiese chiarimenti al riguardo, come curiosità, visto che appunto giustamente come ricorda si tratta di un tentativo di colpo di Stato, vado diciamo su fatti che sono ormai storia, e si chiamava piano solo proprio perché era organizzato dall'arma dei carabinieri. Sì, lui fu molto vago e cambiò discorso, mi cominciò a parlare di un'altra cosa che per me era abbastanza, in quel momento incomprensibile perché mi raccontò per una buona ventina di minuti di alcune rapine che erano state fatte qua a Palermo negli anni 70. Io arrivai a Palermo a lavorare dal giornale loro nel 79, nella prima del 79, ne avevo sentito parlare di queste rapine, le chiamavano le rapine all'arancia meccanica, ma non me ne ero mai occupato e non capivo perché insistesse tanto a parlarmi di questo, comunque l'ho ascoltato con pazienza, a un certo punto mi ha detto ad un certo punto abbiamo anche arrestato alcuni di questi rapinatori, credo nella zona di Villa Sperlinga, e mentre inseguivo uno di questi rapinatori un cane pastore tedesco mi ha azzannato alla gamba, al ginocchio, ed è venuto un suo collega del loro, un fotografo, a farmi una fotografia, e poi ha cambiato discorso. Quando sono tornato a Roma, poi nelle settimane successive ho cercato quell'articolo del giornale loro, in effetti c'era la sua foto in prima pagina con il jeans strappato e mi sono andato a leggere le sette colonne di piombo che c'erano nella pagina interna e mi colpirono molto perché i giornali allora avevano poche fotografie all'interno e tanto scritto, in tutto questo scritto c'era un solo nome, c'era il nome di un poliziotto che io conoscevo, che avevo conosciuto a Palermo nei primissimi anni Ottanta ed era un poliziotto che dalla questura poi andò a lavorare ai servizi segreti all'alto commissariato insieme al dottore Contrada, gli dice ma chissà perché mi ha raccontato queste storie delle rapine… Qual è il nome di questo poliziotto, se lo ricorda? Puddu, è Fisio Puddu, quindi mi colpì molto queste circostanze. Poi mi disse una cosa abbastanza curiosa che ho riportato credo nell'articolo, questo non l'ho riportato perché lo ignoravo al tempo, è stato successivo, perché il pezzo lo scrivemmo nello stesso pomeriggio, la vicenda della rapina per me era una vicenda ininfluente nel contesto del pezzo. Poi ho scoperto quel nome qualche settimana dopo, poi mi parlò anche… disse una cosa molto curiosa, se io avessi compiuto alcune delle cose di cui mi accusano sarei di casa al Ministero degli Interni. La cosa mi sorprese, dice invece io al Ministero degli Interni ci sono andato solo una volta per sbrigare faccende riguardanti la mia pensione. Quindi identificava queste accuse di partecipazione a fatti criminosi con un inserimento nel Ministero degli Interni. Esattamente. Senta, ricorda se Aiello le raccontò il periodo in cui era stato a Palermo, cioè l'epoca in cui aveva lasciato la Sicilia, ecco. Sì, mi disse esattamente che l'aveva lasciata, non era più andato in Sicilia dal 1976. E gli dissi guardi che io la conosco perché io arrivai a Palermo a lavorare nel 79. Dice no, no, guardi, io dal 76 non sono più andato a Palermo. Ecco, allora passiamo a questo fatto, a questo suo ricordo della presenza di aver visto Aiello, lei ci ha già raccontato, ci ha già detto di aver ricordato, di averlo visto nei pressi della questura. Successivamente ha avuto altri ricordi di altri luoghi, altre situazioni in cui associava la presenza di questo Aiello? Sì, ne ho avuto un altro. L'ho riferito ad un convegno, adesso non ricordo quando esattamente, ho partecipato ad un convegno dove c'era il dottore Scarpinato a Palermo, che era procuratore generale, gli ho detto guardi, dottore Scarpinato, a me è venuta in mente un'altra cosa, non ne sono sicuro, ma mi sembra giusto dirglielo. Dopo qualche mese sono stato chiamato al dottore Gozzo. Penso, ma non ho la certezza, non ho la certezza di avere visto il signor Aiello, l'ho collocato all'interno di una piazzuola in via dei cantieri, accanto a una piazzuola di un distributore di benzina, accanto a quel palazzo che era in costruzione al tempo del CNR, in Largo Villa Aura. Penso di avere detto anche al dottore Gozzo che mi ha ascoltato, non mi ricordo quando, non vorrei che la mia memoria mi avesse giocato qualche brutto scherzo, avendo letto le dichiarazioni della signora Galatolo. Siccome io ho abitato in quel palazzo per qualche anno a Palermo, quando abitavo a Palermo, non ne sono sicuro dottore, quindi ho riferito questa circostanza ma col dubbio. Perché la Galatolo, perché può averle suscitato questo ricordo? Perché riferiva di che cosa? I Galatolo abitavano là, cortile Pipitone a poche centinaia di metri, quindi tutta la scena era chiusa in uno spazio molto ristretto. Quindi perché è un luogo vicino a Vicolo Pipitone? Sì, sì, sì. Senta, in che periodo, per quanto la sua memoria può aiutarla evidentemente, colloca questa immagine, questa associazione a Iello rispetto a questo luogo? Sì, guardi, credo di aver abitato lì dall'84, 85, penso fino al 93-94, poi sono ad abitare in via Mari. Diciamo la seconda metà degli anni Ottanta. Nella seconda metà degli anni Ottanta, sì. O primi anni 90, sì. Senta, lei ha mai parlato, prima di tutto conosceva il giudice Falcone? Sì, certo. Ha mai parlato con il giudice Falcone dell'omicidio Agostino? No. Per quanto le ricorda Falcone, ha mai parlato di Contrada, ha mai espresso qualche sua convinzione sul conto di Bruno Contrada? Allora, dottore De Giglio, direttamente no, però in quel periodo noi che lavoravamo ogni giorno, andavamo praticamente ogni giorno all'ufficio istruzione, ogni mattina, quindi anche se non incontravamo ogni giorno il dottore Falcone, il dottore Borsellino, il dottore Guarnotto, il dottore Di Lello, erano gli anni in cui l'attività principale di un corrispondente di un giornale nazionale da Palermo, il cuore era l'ufficio istruzione di Palermo, anche dopo il maxiprocesso. Io non ricordo una frase diretta del dottore Falcone, so perfettamente che il dottore Falcone si fidava molto prima del dottore Cassarè e del dottore Montana e poi dei reparti speciali del Ministero dell'Interno a Roma, il dottore Gennaro, il dottore Panza, il dottore Manganelli e con loro lavorava e non con altri. Lei ha detto direttamente no, allora la mia domanda a questo punto è obbligata, indirettamente che cosa significa indirettamente? Cioè se l'ha presa da altri? Sì da altri ho appreso che... E da chi si vuole precisarlo? Non da una persona soltanto, non da una sola persona, circolava la voce, che il dottore Falcone non si fidasse dei vecchi apparati della questura di Palermo. Per quanto riguarda specificamente Contrada, lei ne ha mai parlato col suo collega Saverio Lodato che noi abbiamo sentito come tessi in questo processo? Sì, ne abbiamo parlato. E Saverio Lodato aveva invece raccolto qualche voce diretta da parte di Falcone sul conto di Contrada? Questo non lo so, però ho sentito naturalmente, ho letto sui giornali che cosa ha dichiarato in aula, va bene. Grazie, è stato molto preciso, non altre domande. Grazie. Grazie, pubblico ministero, la difesa? Delle parti civili? Dove si è che? Avvocato Repici, buongiorno dottore. Buongiorno. Dottore, sono alcune precisazioni. La prima, quando lei incontrò Aiello per questa intervista, questo pezzo che lei scrisse, aveva preavvertito Aiello che lo avrebbe cercato? Assolutamente no. E quando lo incontrò, ebbe percezione se lui fu preso a sorpresa o aveva avuto in qualche modo sentore della vostra visita? Sì, in qualche modo sì, Avvocato Repici, perché mi colpì l'ultimo anello che ci portò da Aiello, però non ricordo se era un fotografo, ma non un fotografo di giornale, il fotografo di quel paesino, non so se era il fotografo o lo ho incontrato in quella bottega di fotografo, non mi ricordo se era il titolare o Bazzicava lì, ci accompagnò sul luogo dove c'era Aiello che c'era una strada, poi c'erano le case, una strada e poi c'era il mare e lui invece di allontanarsi, di andarsene, mentre andavo ad Aiello ho visto che era a 100-200 metri e è rimasto là, la cosa mi sorpreso un po', quindi ho anche pensato, forse lui ha anche avvertito Aiello che stavamo arrivando, però non ne ho certezza, ecco. Ho capito, voi scrivete, pubblicate a doppia firma, cioè a Tirio Bolsoni e Salvo Palazzolo, l'articolo pubblicato dal quotidiano La Repubblica il 5 dicembre 2013 dal titolo Mafia nel rifugio di faccia da mostro, io accusato di essere il killer di Stato, rispetto alla pubblicazione dell'articolo, cioè 5 dicembre 2013, riesce in qualche modo a dire quanti giorni prima avvenne l'incontro? Stava la mattina stessa, è avvocato, cioè siamo tornati in albergo e l'abbiamo scritto. Quindi il 4 dicembre? Sì, sì, sì. Cioè il giorno prima c'è stato l'incontro e il giorno dopo fu pubblicato sul quotidiano? Sì, esattamente, abbiamo finito da lui, abbiamo mangiato qualcosa, siamo andati in albergo e l'abbiamo scritto. Un'altra cosa, cioè avevate saputo se Aiello avesse prima di voi incontrato qualche altro giornalista? Adesso non me lo ricordo, perché qualcuno però mi disse, però non ne sono sicuro, sicuramente è stata la prima intervista pubblica, però qualcuno mi ha detto che avevano incontrato un giornalista televisivo e il servizio non era andato in onda. Le chiedo di fare il nome del giornalista televisivo? Non me lo ricordo. Lei ha mai conosciuto il giornalista televisivo Walter Molino? So chi è, ma penso di non averlo mai conosciuto personalmente. Ma quando ha preso quella circostanza, l'ha preso in riferimento a Walter Molino? Sì, adesso che me lo dice esattamente sì. No, naturalmente solo se corrisponde al suo ricordo, cioè non perché l'ho detto io. No, adesso che mi dice che Walter Molino, le confermo che ho saputo che un giornalista era andato a intervistarlo, che la trasmissione non era andata, l'intervista non era andata in onda e poi da qualche parte ho letto che era Walter Molino. Adesso se lei non mi ricordava, non mi avesse ricordato il nome io non me lo ricordavo, ma visto che me l'ha fatto... Poi in realtà sappiamo da altri atti del processo che quell'incontro andò in onda molti mesi dopo il vostro articolo, nella trasmissione servizio pubblico diretta da Michele Santoro per l'esattezza. Io non l'ho vista, ecco io quell'intervista non l'ho mai vista. Va bene, quell'intervista mi richiama un'altra domanda, lei ha mai conosciuto l'ispettore, comunque il poliziotto Guido Paolilli? No, ne ho letto parecchio naturalmente. Sì, no, no, solo se lei ci aveva avuto. Settimana precedente quando delle persone arrivarono, credo a Villagrazia di Carini, Villagrazia di Carini e chiesero il figlio e il figlio, se non ricordo male, era in Grecia in viaggio di nozze, se non ricordo male. e il signor Vincenzo Agostino la prima volta che lo incontrai, forse vent'anni fa, forse di più, mi parlò di un uomo con la faccia da cavallo. Me lo definì così il signor Agostino, uomo con la faccia da cavallo. Cioè gliene parlò a che proposito? Gli disse che questo signore con la faccia da cavallo? Che era uno dei due signori che avevano cercato suo figlio la settimana precedente, 15 giorni precedenti all'omicidio. Mentre Mino Agostino e Ida Castelluccio erano in viaggio di nozze. Questo racconto che lei era stato fatto dal signor Vincenzo Agostino è precedente all'incontro che lei ha fatto con Giovanni Aiello? Sì, certamente. Quindi era anche questo nel suo bagaglio di memoria, di elementi? Quando incontrò Aiello? Io ho conosciuto il signor Agostino tantissimi anni fa e poi per almeno tre occasioni mi sono occupato della vicenda una volta per un'inchiesta su carta e video su Repubblica. La seconda volta, posso essere più preciso con la data, è il 2012 per un documentario che si chiama Uomini soli e la terza volta più recentemente per un documentario che ha fatto una regista, un documentario che è uscito poche settimane fa e quindi un anno fa, un anno e mezzo fa, ho rivisto il signor Agostino su queste vicende. Lei poi ha detto di essere rimasto molto colpito dal volto di Giovanni Aiello. Sì. Naturalmente non le chiedo giudizi. Lei ha detto che aveva un volto che colpiva particolarmente al di là della cicatrice, anzi quasi la cicatrice neanche si vedeva se non si faceva particolare attenzione. Può spiegare meglio esattamente cosa la colpiva del viso? Era un viso particolarmente deformato, avvocato. Aveva un viso cadente, sporgente. Non era un viso assolutamente regolare. Io della cicatrice nei primi 5-10 minuti di conversazione non me ne ero accorto nemmeno. Lo ripeto, una cicatrice su un viso normale, regolare, liscio, si nota, ma il viso era così deformato che io non riuscivo a… Deformato, ma dico anche deformato, come dire, investe più forse i tratti fisiognomici, la forma del viso, ma anche la pelle, cioè era una pelle liscia in un viso deformato, era una pelle anche… non so come definirla, l'isperata forse non è il termine corretto, è stato usato anche in questo processo, ma insomma lo può definire questo? Presidente, non sono un tecnico. No, anche noi, anche noi, dico ma era soltanto un problema di forma del viso o anche di pelle? Anche di pelle, era una pelle particolarmente rugosa, segnata… Va bene, ecco, e in più aveva una forma, ha detto lei, particolare, nel senso era largo, era lungo… Era largo, lungo, sformato. Va bene. E' stato utilizzato da un dichiarante il termine Rappusu a proposito del volto e della pelle del signor Aiello, è termine che per quello che lei ha visto in qualche modo coincide con la descrizione che ha fatto… Per favore, mi ripeto a te… Rappusu! Non saprei, perché ho serie difficoltà a dare una definizione… Senta, una volta finito il vostro servizio e pubblicato l'articolo, a proposito di Aiello, lei parlò con il signor Agostino? Questo non me lo ricordo, penso di sì, penso di avere chiamato Vincenzo Agostino. Voi scattaste delle fotografie? Tantissime. E lei ha mai mostrato le fotografie al signor Agostino? Credo proprio di sì, adesso non lo ricordo preciso, ma credo proprio di sì, sì. Io le chiedo una risposta certa se lei è in grado… Sì, sì, sì. No, 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 se lei è in grado attualmente, dipende dalla memoria, sa dire se il signor Agostino subito lo riconobbe oppure manifestò perplessità o manifestò assoluto dinego di riconoscimento? Ma quel che ricordo, avvocato, credo che lo riconobbe proprio. Si ricorda se nei giorni successivi pubblicaste un articolo con intervista al signor Agostino? Questo non me lo ricordo… Va beh, nel caso lo produrremo. Un'ulteriore precisazione, il vostro articolo, dico vostro perché è a doppia firma, riporta dei virgolettati attribuiti al signor Aiello. Poi naturalmente ci sono anche sue rielaborazioni, ricostruzioni di fatti storici, eccetera. Il virgolettato è fedele a quello che vi ha detto Aiello? Fedelissimo. Perfetto. Perché per buona abitudine un giornalista appena appena dignitoso, quando metto un virgolettato riporta attestualmente le parole. Voi lo avete registrato? No, no, io non so usare il registratore, faccio un piccino. Sì, questi appunti tra l'altro qualche mese dopo questa intervista, una mattina io andavo al giornale raramente, una volta alla settimana, un'oltre in dieci giorni, un giorno ero qua solamente al giornale e mi chiesero, arrivò il capo dell'antiterrorismo, l'attuale capo della polizia, il dottor Giannini e mi chiese degli appunti su questa intervista. Io un po' rimasi sorpreso perché se faccio un'inchiesta conservo tutta la documentazione, ma se faccio un'intervista volante gli appunti non me li conservo, li butto. Cominciai a cercare nel mio archivio del giornale, non li trovai e poi gli dissi guardi, vado a casa alle due, li cerco, mi incuriosì il fatto che desiderava sapere se avevo fatto gli appunti, ma naturalmente non ho trovato niente a casa. Lo stesso pomeriggio mi chiamò verso le sei, il dottor Giannini ero su un taxi, mi disse ma c'è un magistrato che vorrebbe farsi una chiacchierata con lei, alla Procura Nazionale, mi pare che si chiamasse Curcio. Curcio, il dottor Francesco Curcio. Io ne conoscevo due di Curcio. Noi abbiamo un verbale di sue dichiarazioni rese al dottor Francesco Curcio, presente il dottor Lamberto Giannini della Sessenzio Centrale Antiterrorismo, in data 27 febbraio 2014, alle ore 18 e 20, alla Direzione Nazionale Antimafia. Non mi ricordavo nel giorno o nell'anno, ma mi ricordo la… Quindi siamo più o meno due mesi e mezzo dopo l'articolo. Ah, due mesi e mezzo dopo, pensavo di più. Mi colpì che la chiacchierata non era propriamente una chiacchierata perché fu secretato l'incontro, e mi colpì soprattutto la presenza dell'antiterrorismo e che per me era già una notizia come giornalista. Sì, in effetti. Ora, a proposito del virgolettato, lei riporta i nominativi di alcuni funzionari di polizia che le vennero fatti da Giovanni Aiello e riporta i nomi del dottor Vittorio Vasquez, del dottor Vincenzo Speranza e del dottor Bruno Contrada. Poi dice, e poi c'era quello che è morto, è il virgolettato di Giovanni Aiello. Fu chiaro nel discorso di Aiello a chi fosse il riferimento con quello che è morto? Allora, adesso che lei mi legge il passaggio, io non mi ricordavo i nomi che aveva fatto, che conoscevo naturalmente tutti e tre, mi ricordavo anche prima che lei mi ponesse questa domanda, avvocato, la circostanza che avesse fatto il nome di quello morto, perché era una cosa, si riferiva al dottor Boris Giuliano. L'aveva colpito che non avesse fatto il nome? Certo, perché era il poliziotto più famoso di Palermo, era un poliziotto della squadra mobile, mi fa alcuni nomi e poi con una certa vaghezza mi parla, è poi quello che è morto, ma lo sapevano tutti chi era il dottore Boris Giuliano, dentro la squadra mobile era un mito, dentro la polizia palermitana e anche fuori era notissimo a tutti. Io l'ho incontrato solo due volte in vita mia perché arrivai nel maggio del 79 a Palermo, ma al giornale L'Ora mi avevano fatto ore e ore di racconti sul poliziotto più famoso di Palermo e il fatto che un poliziotto mi dicesse, un ex poliziotto di quella squadra mobile mi dicesse e poi quello che è morto mi è suonato abbastanza strano, anche un po' offensivo devo dire. E rispetto alle persone dei funzionari i cui nomi le fece manifestò avversione, simpatia, distacco? Lo dica lei. No, mi è sembrato un elenco neutro. Neutro? Neutro. Bene, senta, a proposito del dottor Giovanni Falcone, lei ha già fatto riferimento a quanto riferito dal suo collega Lodato, della famosa intervista in cui comparve quella definizione menti raffinatissime che è poco tempo, poche due settimane dopo l'attentato alla D'Aura. Lei poi con il dottor Falcone si trovò a colloquiare dell'estate dell'89 anche in tempo successivo? Guardi, con il dottor Falcone e il dottor Borsellino ci si vedeva frequentemente in quegli anni. Sicuramente abbiamo parlato non solo della D'Aura ma di tutto quello che stava accadendo. tra l'altro della D'Aura io ho un ricordo particolare ma poco faccio fatica a mettere a fuoco esattamente dopo la D'Aura, la cosa che mi ricordo di più dopo la D'Aura è una vicenda legata a quel testimone che stava ascoltando in quei mesi, Volo, quello è il ricordo che ho della D'Aura. Mi scusi non ho sentito il nome? Volo! Ah, Volo! Volo, ho questo ricordo. Poi... Questo ricordo lei lo riporta come un fatto conosciuto all'epoca? Cioè in... Sì, io lo conoscevo. Come dato in diretta? Sì, 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 nei mesi successivi. Per così direi che quell'89 era presente un anno particolare perché intanto Repubblica non aveva una sede, aveva un solo giornalista, lavoravamo tanto, 24 ore al giorno perché succedevano tante cose. C'era stata la fine del maxiprocesso nell'87 a dicembre, subito dopo poi ci fu tutta la vicenda del Consiglio Superiore della Magistratura, nella primavera dell'88 iniziarono le polemiche, poi ci fu il primo caso Palermo, l'intervista che fece a me ha lodato il Dottore Borsellino nel luglio 88 e quindi ci occupavamo sempre di queste cose. Poi arrivò l'89 con le lettere del Corvo, con una storia vera presunta chissà su Falcone Spiato dentro il suo ufficio e la vicenda della D'Aura. Quindi gli argomenti si inseguivano e si incastravano e a distanza di tutti questi anni non sempre i ricordi possono essere precisi, Presidente. Quindi con il Dottore Falcone certo parlammo perché poi con il Dottore Falcone con alcuni giornalisti avevano un rapporto, diffidava molto della stampa del Dottore Falcone, con alcuni giornalisti avevano un rapporto di fiducia e quindi poi le poche interviste che il Dottore Falcone ha dato, il Dottore Borsellino le ha date a due o tre giornalisti, quindi tra quei due o tre c'ero anch'io sempre. Allora intanto le chiedo una precisazione, fra questi due o tre c'era anche il Dottor Saverio l'ho dato? Sì, certo. Lei è stato sentito come testimone innanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta nel processo Capaci Bis? Sì. Presidente Dottor Balsamo? Sì. Ecco, la mia domanda sul incontro, colloquio col Dottor Falcone fa riferimento a epoca prossima al momento in cui il Dottor Falcone prese servizio alla direzione degli affari penali al Ministero, un incontro che sarebbe avvenuto a Catania. Lei ha ricordo? Non perfettamente, perfettamente. Il Dottor Falcone, quello fu l'ultimo giorno siciliano del Dottor Falcone, perché non ricordo se avrebbe dovuto prendere possesso i primi di marzo o addirittura il giorno dopo, non ricordo la data. Il Dottor Falcone era testimone a Catania per una coda del processo contro i sicari del procuratore Costa, c'era una coda del processo. Siccome con il Dottor Falcone avevamo, dopo dieci anni di frequentazione intensa, era successa una cosa nelle settimane o nei mesi precedenti, che io e un altro giornalista radicata, che era molto legato al Dottor Falcone, anche il Dottor radicato, pubblicavamo una cosa che lo fece infuriare sul ritorno di Bucetta in Sicilia. Ci fece sapere che era molto incavolato con noi, ma insomma, sapevamo che era l'ultimo giorno e siamo andati a Catania per salutarlo, c'era anche Cavallaro quel giorno, il Corriere della Sera, e prima che salisse sul banco degli testimoni ci siamo andati e l'abbiamo invitato a colazione e lui accettò volentieri, mi ricordo che sia a due condizioni. Io gli dissi, la prima Dottor Falcone, è inutile che me la dice perché lo so già, niente interviste. Ero curioso della seconda, dice il ristorante lo scelgo io. Gli ho detto, bene, la porto. E dice, ci vediamo alle due e mezza del Costa Azzurra, a quel punto io rimasi sbalordito perché il Costa Azzurra era il quartiere generale di Santa Paola e se non ricordo male, il proprietario di Costa Azzurra che si chiamava Galiotto, il Cavaliere Galiotto, credo che aveva ricevuto un avviso di garanzia o addirittura era stato arrestato su mandato del Dottor Falcone. Quindi mi rimasi sorpreso e anche i miei due colleghi erano sorprese. Lui mi guarda e disse no, dice tutto a posto. Andammo al ristorante. Alle due e mezza arrivò. Chi eravate a tavola? Inizialmente ero io, l'alicata della stampa, cavallaro del corriere. Arrivò il Dottor Falcone. Ricordo la sorpresa del proprietario del ristorante, il ristorante era deserto, mi ricordo che sulla destra c'era l'avvocato di Santa Paola, l'avvocato, non ricordo male, si chiamava Cannizzaro, non ricordo perché aveva degli occhiali spessi, sembravano dei fondi di bottiglia, che mangiava da solo. Ci sedemmo e per un quarto d'ora dovevamo aspettare il Dottore Grasso. Il Dottore Grasso era al tempo... Piero Grasso? Piero Grasso, sì. Lavorava al Ministero di Giustizia, che anche lui era testimone nel processo. Ma non arrivava, forse abbiamo ordinato qualcosa, e verso le tre, e mezzo arrivò poi il Dottore Grasso, iniziò una lunga chiacchierata, che era di fatto, per chi conosce il mestiere, era un'intervista autorizzata, anche se non c'erano taccuini e penne sul tavolo. Tant'è che alle sette e mezza ci alzammo, credo, di sera, ce ne andammo, il Dottore Falconi c'era al massimo due righe, noi abbiamo, come ho detto, anche tre, abbiamo riso un po'. Il giorno dopo ci chiamò, ci rintracciò uno per uno, noi fecimo una pagina sul giornale, per ringraziarci di aver riportato con molta correttezza il senso del suo pensiero. Chiamò tutti e tre, sì. Quella fu l'intervista, me la ricordo per un altro episodio, Presidente, perché la ricordo non solo perché fu l'ultima volta che vedi in Sicilia il Dottor Falcone e per quell'intervista dove diceva delle cose molto significative. Mi ricordo perché 15 anni dopo circa, un giovedì, perché il giovedì era il giorno in cui usciva il settimanale del Corriere della Sera, una sera torno a casa, con la mazzetta dei giornali, c'era anche questo settimanale, e di sera a tardi miseraio sul divano e mi leggo un'intervista al Dottore Grasso, ha cominciato a leggere un'intervista scritta molto bene e ad un certo punto l'intervistatore chiede, ma lei era procuratore nazionale in quel periodo del Dottore Grasso, ma lei hanno mai fatto attentati, hanno cercato di uccidere? Dice sì, una volta a Monreale con un bazooka e un'altra volta in un ristorante di Catania insieme al Dottor Falcone e tre giornalisti. Allora io un po' rimasi turbato, era molto tardi, chiamai il procuratore Grasso e dico ma procuratore, diciamo ma non sapeva niente, dico no, cosa dovevo sapere? Abbiamo saputo più di dieci anni fa che dei pentiti raccontavano che erano appostati fuori dal ristorante, gli amici di Santa Paola con i calasci, mi cof, aspettavano l'autorizzazione a Santa Paola, ma non lo avevano rintracciato con i telefoni, sa se vi ricordo con i telefoni pesanti. Poi chiamai l'Alicata, dico ciccio, un amico l'Alicata, dico ma sapevi niente? Sì dice, sapevo tutto, perché tu non sapevi niente, l'unico a non sapere niente ero io. Ecco perché mi ricordo quell'intervista, ma ricordo sì. Si ricorda se nel corso di questa lunga chiacchierata parlaste degli accadimenti del 1989? Guardi, io l'intervista adesso non ricordo delle frasi chiave, avvocato, ricordo delle frasi chiave tipo mi sto buttando in un mare in tempesta, perché questa avventura romana lo intrigava ma lo spaventava anche, poi mi ricordo che fece tutto un discorso su la poca comprensione da parte della politica di che cos'era il fenomeno mafioso. Per non andare fuori tema, la mia domanda era proprio sui fatti dell'89. Cerchiamo di fermarci a questi fatti, perché ovviamente... Non me lo ricordo Presidente, anche se l'89 per il dottore Falcone era un anno chiave, era l'anno... Sì comunque diciamo di questi fatti le non si ricordo, non me lo ricordo. Un'ultima precisazione, lei pubblicò all'esito di questo lungo incontro questa cosiddetta intervista? Beh, più che cosiddetta era un'intervista, si pubblica il giorno dopo sui giornali, una pagina intera sì. Perfetto, ha detto che questo pranzo poi finito a ora serale è avvenuto più o meno in che giorno o in che periodo? Guardi, l'intervista fu pubblicata il primo marzo 1991. E allora la cosa migliore è la data dell'articolo? E fu fatta il giorno precedente, perché andammo in albergo e la scrivemmo subito. Bene, un'altra cosa, lei prima ha fatto un accenno a una notizia che lei ha detto, non so se è vera o falsa, a proposito di attività di spionaggio in danno del dottor Falcone all'ufficio istruzione. Lei su questa vicenda ricevette una informativa da qualche ufficiale di polizia giudiziaria? Allora, io ricevetti un rapporto. Sì. Io ricevetti una mattina, non mi ricordo se era luglio-agosto dell'89. Guardi, allora, a contestazione per richiamare alla memoria, nel verbale di deposizione testimoniale del 24 marzo 2015, nel processo contro Madonia, Salvatore e più altri, corte d'assise di Caltanissetta, lei fece riferimento alla mattina del 5 agosto. Ecco, era agosto dell'89. Del 89. Sì, io mi ricordo di aver ricevuto un intero rapporto giudiziario, che era stato presentato la mattina stessa alla Procura della Repubblica. Mi fu consegnato nel primo pomeriggio, nella mattinata di quella... e rimasi sbalordito, primo perché mi consegnarono un rapporto appena presentato alla Procura della Repubblica, che non è, come dire, tanto normale. Chi è la persona che le consegnò questo rapporto? Questo non glielo posso dire, Avvocato. E però l'aveva detto? Ma non credo di avere fatto il nome. Sì, il nome del Dottor Arnaldo Labarbera, a cui ha fatto. L'avevo fatto? Sì, se no non lo potrei sapere. Ma io non me lo ricordavo. Lei ha fatto due nomi, in questo lungo verbale di deposizione. Su un nome ha opposto il segreto professionale e non l'ha fatto. Non me lo ricordavo. Invece ha fatto il nome della persona che materialmente le aveva consegnato il documento. Allora, uno dei due era lui. Come? Uno dei due era lui, l'altro non lo posso fare. L'altro non lo so perché non l'ha fatto il nome. Perché era vivo. Perché è vivo. E ha opposto il segreto professionale. Sì, e in quel rapporto c'era, sosteneva che il Dottor Falcone era spiato. Io pubblico, leggo il rapporto nel pomeriggio, faccio una pagina sul giornale, l'indomani esce un titolo in prima pagina, Falcone spiato, credo. E smentiscono tutti. Io rimasi un po' perplesso perché il rapporto era vero ed era stato presentato in proprio quindi non capivo perché smentiva. Il giorno successivo uscì un'intervista su Repubblica ad un alto funzionario di polizia, così veniva definito, firmato dal giornalista Giuseppe D'Avanzo. Ma io sapevo chi era quell'alto funzionario di polizia. Si era il capo della polizia Vincenzo Parisi che ha rilasciato ad avanzo un'intervista dove sosteneva che Falcone non era spiato, era spiatissimo. Ora questa vicenda poi, adesso non c'è più, il mio collega è morto, ne abbiamo parlato nel corso degli anni. Noi non abbiamo mai capito se siamo stati in qualche modo lo strumento di qualcuno, perché giornalisticamente abbiamo incassato il risultato, abbiamo fatto uno scopo, ma non ci bastava incassare il risultato, volevamo capire che cos'era successo. Non abbiamo capito se quel rapporto, il rapporto era vero, se quella vicenda volesse in qualche modo aiutare il Dottore Falcone per tenere alta la tensione in quel periodo dove il Dottore Falcone era molto esposto o se fosse stato un segnale al contrario per delegittimarlo. Nel corso degli anni abbiamo sempre pensato, abbiamo pensato che l'ipotesi, la prima ipotesi fosse la più credibile, però non ne abbiamo avuto contezza, perché? Perché secondo me nessuno stava spiando il Dottore Falcone in quel momento. Ne parlaste o ne parlò lei con il Dottor Falcone? No, di questa vicenda. Un'ultima cosa su questo aspetto, in quel periodo, maggio, giugno, luglio 1989, con il Dottor, o meglio, sui fatti di quel periodo, maggio, giugno, luglio 1989, con il Dottor Falcone, in quello stesso periodo o anche successivamente, vi trovaste mai a parlare del Dottor Alberto di Pisa? Io non me lo posso ricordare se in quei mesi di 35 anni fa abbiamo parlato di questo, non me lo posso ricordare. se si sia parlato del Dottore di Pisa in quel periodo, nei mesi successivi alle lettere anonime che erano arrivate in procura, sì, ma non in quei mesi io non me lo posso ricordare, Avvocato, Repici. Sono passati veramente 35 anni. E in epoca successiva sì? Sì, penso di sì, perché… No, naturalmente solo se ha un ricordo certo. No, ricordi certi non ne posso avere perché si accavallano i ricordi con chiacchierate che posso avere fatto con il Dottor Falcone, ma con altri, i suoi colleghi o con investigatori, quindi non posso avere, non posso dare una cosa a ricordare con certezza. Va bene. Un'ultima cosa, riguarda più specificamente l'oggetto di questo processo. Lei ricorda quando ebbe notizia del duplice omicidio in danno di Antonino Agostino e Ida Castelluccio? No, non me lo ricordo esattamente quando. So che me ne sono occupato subito e so che il campanello d'allarme è suonato subito perché subito hanno messo in giro la notizia del delitto passionale. E questo ha fatto subito scattare… Questo lei l'ha percepito subito che correva questa voce del delitto passionale? Sì, sì. E dove l'ha prese questa voce? Per gli ambienti investigativi, sì, sì. Però le chiedo, è un dato che è già stato acquisito dalla corte, seppure sicuramente non è conosciuto da lei. Nell'agenda del Dottor Bruno Contrada del 1989, nella parte finale della giornata del 5 agosto 1989, quindi plausibilmente in tarda sera, risulta una telefonata che lei fece al Dottor Contrada. Ah, non lo so. Lei ha ricordo di questo? No, assolutamente no. Era per capire se ad esempio aveva preso la notizia e quindi poteva averlo contattato per avere una sua opinione o che… No, non lo ricordavo proprio assolutamente. E dunque nell'89 raramente io avrò cercato il Dottore Contrada, perché nell'89 credo che lui lavorasse già all'alto commissariato. No? No, in quel momento era già al SISDE. Sì, al SISDE, sì. No, non ne avevo ricordo, avvocato. E si trovò… lei ebbe modo di parlare con il Dottor Arnaldo Labarbera dell'omicidio Agostino? Penso di sì, ma non me lo ricordo. Penso di sì, perché quando succede qualcosa poi si andava dal capo della mobile o da qualche funzionario dell'omicidio, dell'investigativa. Penso di avere fatto il giro e quindi anche col Dottore Labarbera. Così che il Dottore Labarbera era da poco lì, era da circa un anno, non di più, no? Era arrivato, mi pare, nell'agosto dell'anno prima a Palermo. Va bene. Presidente, io non ho altre domande. Grazie. Grazie. Altre parti civili? Poi verificheremo l'affermazione del campo delle ipotesi. Però io volevo solamente far visionare al Dottor Bolzoni delle foto che lo stesso Dottor Bolzoni ha mandato alla Procura Generale il 22 marzo del 2019. Sono 14 fotococche di fotografie, però a colori, che per quanto è stato rappresentato dal test, furono scattate in occasione di quell'intervista. Questo anche per rendere concreta poi la descrizione di capelli, viso, eccetera. Quindi questo ovviamente a fine di produzione. Sì, sì, perfetto. E' a scattare il servo Palazzone. Aspetta, aspetta, pubbio mistero. Facciamole vedere alle parti così se... Se le parti le conoscono? Sì, ho capito. Dico per la produzione, ovviamente se le mostriamo è per acquisirle, altrimenti resterebbe un dato non verificabile. Quindi, parti civili... Ci avevo scontato la conoscenza perché sono atti già acquisiti. Ma dico la richiesta di produzione di queste foto. Sì, le deve riconoscere se sono queste, Presidente, e poi ne avrei chiesto la produzione, sì. Le volevo far visionare solo per farle riconoscere, visto che lui li ha... Vabbè, le mostriamo, le parti ne hanno preso visione, ovviamente le conoscevano perché fanno parte del fascicolo del dibattimento. Quindi, dottore Bolzoni, se sono queste le fotografie che lei, non che lei, che nella circostanza che lei ha ricordato, sono state scattate e che poi da lei sono state trasmesse... Sì, per essere preciso Presidente, le foto sono queste, sono state scattate, ah mi scusi, per la precisione le foto sono queste, sono state scattate dal mio collega Salvo Palazzolo e sono quelle che ho inviato... Lei alla Procura Generale? Sì, al dottore Bolzoni. Al dottore Bolzoni. Il soggetto che si trova, che si vede ritratto in alcune foto di spade è lei, giusto, anche per il rapporto di altezza con l'AIEI? Sì, sono io, sono io, sì. Grazie, non ho altre domande. Cioè, quindi questa è di produzione, le parti, le parti civili... Si chiede l'acquisizione. Si chiede l'acquisizione, gli avvocati di consenso e la Corte sulla... Grazie. Sulla accordo delle parti dispone ad acquisirsi le fotocopie a colori delle fotografie riconosciute dal test Bolzoni. Sono una, due... Intanto possiamo licenziare il test? Presidente, ho una sola ultima domanda in riesame, essendo mio testimone, a seguito delle domande della difesa dell'imputato. Una sola precisazione, dottore. A proposito dei suoi ricordi di aver visto Aiello a Palermo, lei, se io non ho capito male, ha detto mi lasciai scappare con Aiello, io la conosco. Sì, ha capito bene. Al microfono. Sì, ha capito bene, proprio mi è sfuggito quando l'ho incontrato, io la conosco. E in quel momento quindi lei ebbe certezza che lo aveva visto quel signore? Sì, sì, sì. Io glielo dissi proprio al signor Aiello, io a lei la conosco. Le scappò perché lei dice prudentemente, forse avrei fatto meglio a non dirlo. Esattamente. Va bene. Nessun'altra domanda, Presidente. Grazie. 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 Grazie.